Anticipazioni Endless Love. Emir si imbatte nella sorprendente rivelazione del ritratto di Kemal, conservato gelosamente da sua moglie. Questo sospetto risveglia in lui la preoccupazione per la sicurezza di Kemal, ora in pericolo a causa di un complicato triangolo amoroso. Mentre Nyan e Kemal, una volta amanti, si ritrovano improvvisamente a bordo di un traghetto orchestrato da Leila, un incontro che riaccende vecchie passioni e sentimenti supiti. Il confronto forzato costringe Kemal e Nyan ad affrontare la realtà amara dei loro sentimenti irrisolti, mentre i genitori di Nyan, Wilden e Older, lottano sotto il peso della situazione difficile della loro figlia e delle pressioni esercitate da Emir, il genero geloso. La tensione tra di loro diventa palpabile, Older si rifugia nell'alcol, mentre Wilden è preoccupata per il benessere della figlia. La gelosia di Emir raggiunge l'apice quando scopre un ritratto di Kemal nel laboratorio di Nyan, alimentando ulteriormente i suoi sospetti. Nel frattempo, Asu scopre tramite foto online il profondo legame tra Kemal e Nyan, mettendo Leila nella difficile posizione di dover giustificare le sue azioni. Emir, travolto dai ricordi dolorosi di un matrimonio privo di amore, trova un fugace sollievo nella compagnia notturna delle prostitute. Mentre Nyan è immersa nei ricordi di un passato che una volta era dolce e pieno di speranza, tra cui il gesto commovente di Kemal che le regalò una rosa bianca, simbolo di una promessa di amore incondizionato, le imprese professionali di Kemal delineate nel suo curriculum scatenano l'ira di Emir. Convinto che la presenza di Kemal nella vita di Nyan non sia affatto casuale, incarica il fedele Tufan di indagare a fondo su questa situazione. In questo intricato intreccio di sentimenti segreti e gelosia, ognuno è intrappolato nella lotta tra l'amore del passato e la crudele realtà del presente. La rete degli intrecci amorosi si fa sempre più intricata, con ogni personaggio coinvolto che si trova in una lotta costante tra i fantasmi dei sentimenti passati e la dura verità del presente. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il Continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!